Musica Ben ritrovati, ben ritrovati, l'intervista del Punto, oggi nella nostra striscia quotidiana un'importante esclusiva, sono davvero contenta, orgogliosa di averlo con noi, cioè Walter Musillo, il candidato sindaco della città di Taranto, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie, grazie soprattutto a te, davvero sono felicissimo di essere qui e disponibile a qualsiasi domanda. Allora Musillo, questa intervista sarà un'intervista tutta la verità, nient'altro che la verità, ovviamente non la custerò di niente, come spesso faccio quando devo smascherare, ma bensì voglio confrontarmi con lei sui tanti temi importanti di una città che ha veramente bisogno di un sostegno. Lei è pronto a scendere in campo per rappresentare davvero una città bellissima che spesso però viene bistrattata. Su questo lo giuro, anche in questa occasione dirò tutta la verità, ma la dirò davvero, non abbiamo bisogno di nasconderci di niente, abbiamo tante cose in mente, tante cose belle, è tutto vero, sono candidato sindaco. E allora io intanto la ringrazio per questa importante esclusiva. Prima di iniziare, come spesso facciamo all'intervista del punto, ovviamente entriamo nel vivo di questa cartolina, la copertina che noi dedichiamo all'ospite e subito dopo la intervisterò. E allora subito con i nostri giornalisti, grazie dalla regia e al rientro, intervisterò proprio il candidato sindaco alla città di Taranto, Walter Musillo. L'obiettivo è quello di dare a Taranto un futuro importante dopo anni difficili, governarla come se fosse un padre di famiglia, proponendo novità concrete, attenzione alle periferie e soprattutto vincendo le elezioni comunali, grazie all'amore per la sua città. Questi i propositi di Walter Musillo. Sarà lui il candidato sindaco per il centrodestra nella città ionica, contrapponendosi così, tra i vari, al sindaco uscente Rinaldo Melucci. La sua svolta personale è però maturata nel tempo. Nel novembre del 2013, Musillo è stato infatti eletto come segretario provinciale del Partito Democratico Tarantino, per poi lasciare lo stesso a novembre 2018. Non mi ci riconosco più, così in sostanza motiva la sua decisione. Lui che aveva partecipato alla costruzione dello stesso PD fin dalle sue origini, già dal 2007, e ricoprendo il ruolo di direttore dell'UTAP, ossia l'organismo tecnico che organizzò le primarie costituenti. Quindi, in vista delle elezioni regionali del 2020, si è candidato in una lista a sostegno della coalizione di Michele Emiliano, senza tuttavia essere eletto. Un ulteriore colpo di scena è maturato nei mesi scorsi. A causa delle dimissioni di ben 17 consiglieri comunali su 32, termina prima del tempo previsto proprio il mandato di Melucci, proiettando così la città verso una nuova fase. La coalizione che sostiene Musillo è del resto molto ampia, e va dalla Lega, a Forza Italia, a Fratelli d'Italia, fino ad Atti 6, il partito fondato nei primi anni 90 da Giancarlo Cito. Tutti insieme costituiranno la grande alleanza per Taranto. Come andrà a finire? Lo scopriremo il 12 giugno prossimo, in occasione delle elezioni amministrative. L'eventuale balottaggio è invece previsto il 26. Sono davvero contenta che lei abbia accettato il mio invito. Musillo, la vedo emozionata, emozionata perché lei di fatto rappresenterà questa candidatura importante per una città che, come dicevo in anteprima, spesso è stata sbeffeggiata, un po' come dire l'ultima città, spesso ho sentito, io nelle mie trasmissioni me ne sono occupata, la discarica d'Italia, tutti i problemi che questa città, che io ritengo bellissima, come poche. Lei ha un programma, devo dire, molto interessante per la rinascita di Taranto. Ma certamente, innanzitutto sono veramente emozionato, lo sono dal primo momento, da quando una coalizione così grande, questa grande alleanza, ha pensato che io potessi rappresentarle. Quindi per me è stato un onore, un onore grande, sono veramente molto lusingato. E sto facendo questa campagna elettorale ogni giorno con grande emozione, perché è facile emozionarsi quando giri per la città, è facile emozionarsi quando parli con la gente, quando parli con i commercianti, quando entri nei mercati, quando visiti non solo le vie principali di questa nostra bellissima città, ma soprattutto le periferie, quelle strade dove mai nessuno ci va, dove mai nessuno va a camminare, a consumarsi le scarpe, a guardare negli occhi le persone. Sono emozionato quando guardo i nostri miticoltori, e li guardo, li osservo con i loro solchi sul viso, con le loro mani consumate del lavoro. Quando parlo con i commercianti e mi presentano i loro clienti, la loro piccola azienda familiare, mi parlano delle loro difficoltà. Quando a volte saluto le mamme e mi raccontano che la domenica sera sono costrette ad accompagnare i loro figli ad una stazione autobus, perché devono andare fuori, devono lavorare fuori, devono abbandonare la nostra città. Quello è il nostro oro, quella è la nostra ricchezza, e va via, va via ogni settimana, aumentano sempre di più. Un sindaco non può ignorare queste cose, deve parlare con queste persone, capirne la sofferenza, le difficoltà, e fare tutto quello che è possibile. E le possibilità questa volta ce le abbiamo, perché nei prossimi cinque anni a Taranto accadranno tante cose, cose importanti, e queste cose dobbiamo utilizzarle valorizzarle. Ne parleremo magari, se le farà piacere nel corso della trasmissione, per far fare a questa città il vero salto, dargli la vera opportunità. L'importante è che ce lo concedano, l'importante è vincere le elezioni, governare da Tarantino la mia città. Questo è l'obiettivo, su questo stiamo lavorando. Ecco, Musillo, più che da concorrente di Melucci, io da Tarantino le voglio chiedere un parere su quello che abbiamo poi seguito tutti, noi l'abbiamo raccontato in diretta, lo scioglimento dell'amministrazione comunale, del consiglio comunale. Cade poi il sindaco Melucci, e questo sicuramente per una città come Taranto, che lei mi accennava che fa già grande fatica a rialzarsi da tanti temi che affronteremo in questa intervista. Lei, proprio come Tarantino, come l'ha vissuto quel momento? Come un fallimento? Ma io l'ho vissuto da politico e da Tarantino come un fallimento di una stagione politica durata quattro anni e mezzo, non durata due anni. Dopo quattro anni e mezzo ci si è, come posso dire, non ci si è accorti, perché ce ne eravamo accorti molto prima. Dopo quattro anni e mezzo questa classe politica, questi consiglieri comunali, hanno capito che non c'era più neanche un momento da perdere. Melucci non ha mai avuto una maggioranza. La stragrande maggioranza degli atti presentati in consiglio comunale sono sempre stati approvati in seconda convocazione, quando c'è bisogno di un numero legale inferiore. Quindi quella maggioranza non c'era. Poi è arrivata la pandemia, è arrivata una tragedia planetaria. Abbiamo dimenticato, forse in tanti dimenticano, le difficoltà che ogni comunità viveva in quel periodo. Il lockdown, le barre che venivano trasportate dall'esercito, l'esercito che presidava le città. Non era il momento di far cadere un'amministrazione. C'è stata grande responsabilità da parte di quei consiglieri comunali che non volevano privare la città di una guida, anche se una guida molto precaria. E quindi si è andato avanti, si è preso tempo, si è cercato di capire se magari si potevano costruire condizioni per migliorare la situazione. È stato tutto inutile. A novembre, alla fine, questi consiglieri comunali che io considero coraggiosi e che ho guardato, perché molti di loro mi conoscono e io conosco loro, e con loro ho parlato. E guardare negli occhi una persona che aveva firmato da poco lo scioglimento del consiglio comunale non è stata mai da parte loro un'accusa bella. È stata un'accusa sofferta, difficile, ma inevitabile. Allora, ha fatto molto discutere questa sua posizione, perché lei di fatto è stato un uomo abbastanza spesso del centro-sinistra, però si presenta alle elezioni a Taranto con una coalizione di liste civiche, insomma, aperturiste verso il centro-destra. Come lo spieghiamo a chi la deve poi seguire, votare, sostenere? Beh, io che ho fatto parte di quel mondo, io sono stato segretario del Partito Democratico tanti anni fa, io sono l'ex, ex, ex segretario del Partito Democratico. Poi tanti anni fa ho preso la decisione di lasciare il partito, ma di non entrare in nessun altro partito. In quel momento ho pensato che l'impegno della mia città potevo svolgerlo da civico e così ho fatto, perché l'amore per la città ti fa mettere da parte qualsiasi tipo di appartenenza politica, qualsiasi tipo di legame, anche storico, che viene da lontano, te lo fa mettere da parte. Le difficoltà in quella città per superarle hanno bisogno che al centro ci sia solo l'interesse di Taranto e dei suoi cittadini. A questa proposta, questa proposta innovativa, che è stata guardata con molta attenzione da parte dei partiti del centro-destra, tutti i partiti del centro-destra a Taranto per la prima volta tutto il centro-destra mette da parte anche eventuali divisioni interne che ci sono state nel corso della storia e anche loro fanno un passo avanti, non un passo indietro, fanno un passo avanti, decidono che la città e il Taranto è al centro dell'interesse di ogni partito, di ogni formazione civica, di ogni partito dei moderati e di tante aggregazioni che provengono, perché non sono l'unico, che provengono dalla sinistra, tutti insieme per mettere su un'idea vincente e il nuovo modello Taranto. Ecco, Musillo, come sa, io da diverso tempo porto avanti le mie trasmissioni, sa le lotte che io faccio, soprattutto a Taranto, mi occupo ovviamente di quello che è l'argomento come dire, abbastanza caldo che riguarda l'ex Silva, ha cambiato nome, ma rimane radicalmente come dire, un grosso problema legato all'inquinamento di quella città, di quel territorio. Raccontiamo molto spesso qui delle testimonianze ancora che ci fanno molto male. Io so che lei è un uomo molto attento e che so, insomma, che vorrà seguire anche da vicino tutto lo sviluppo di questa importantissima azienda che di fatto, diciamo, dà tanti posti di lavoro, ma che è importante seguire anche quelle che sono le regole in fatto di inquinamento. Guardi, questa foto è straordinaria. Io sono nato proprio lì, io sono nato al rione Tamburi sono nato al rione Tamburi, sono nato in Via Galeso, conosco benissimo tutto ciò che è accaduto, lo portiamo sulla pelle, il dolore di quel rione, ma non solo, di tutta la città di Talento, tutti noi lo portiamo sulla pelle e lo conosciamo bene. Quelle sofferenze le abbiamo, le abbiamo, le portiamo addosso ognuno di noi. Soprattutto, devo dire, questa, questa, questa grande coalizione che si appresta a governare questa città su queste questioni è molto attenta. Abbiamo purtroppo, sai cosa trovo in città il più delle volte, tutte le persone che sto incontrando, una grande diffidenza. La diffidenza proviene dalle decine e decine di promesse mancate che a questa popolazione è stata fatta. Anche su questo argomento, anche sulla questione ambientale, anche sulla questione ILVA. Abbiamo avuto forze politiche negli ultimi anni, ognuna si presentava a questa città dichiarando che avrebbe chiuso lo stabilimento, che avrebbe messo fine alla fonte inquinante. E i cittadini che vogliono avere ancora speranza ogni volta li hanno anche premiati, li hanno votati in massa e puntualmente sono rimasti delusi, sono stati traditi. Noi non abbiamo detto che chiuderemo lo stabilimento, noi vogliamo una soluzione per lo stabilimento. Da un po' di anni un po' tutti parlano di decarbonizzazione, ha iniziato il Presidente Emiliano, lo ha seguito a ruota l'ex sindaco che di fatto secondo la mia opinione prepara un'ordinanza di chiusura scretta male che il Tar li boccia un'ordinanza di chiusura scritta male grandi professionisti ben pacati che scrivono male un'ordinanza ma poi inizia a parlare anche lui di decarbonizzazione poi il governo inizia a parlare di decarbonizzazione e la gente la stragrande maggioranza delle persone nella maggior parte dei casi non sanno neanche di cosa stiamo parlando noi l'abbiamo analizzata questa cosa la questione relativa alla decarbonizzazione se fatta può anche diventare efficace quello che mi manca ancora sono la certezza degli strumenti e quindi il gas e quindi l'idrogeno e quindi il rotame e quindi i fondi economici da stanziare allora il sindaco di Taranto non avrebbe nessun problema se fossi se diventassi io il sindaco di Taranto tra 60 giorni a sostenere un'iniziativa del genere ma voglio vedere i soldi in cassaforte questa volta voglio vedere i soldi in cassaforte perché i Tarantini non si fidano più perché i Tarantini non vogliono andare più a votare perché i Tarantini sono stanchi delle promesse in questi anni le abbiamo contenute le emissioni i dati io leggo i dati non posso fare altro che leggere i dati ma le abbiamo contenute perché abbiamo abbassato la produzione abbassare la produzione significa cassa integrazione per 4-5 mila persone significa povertà significa meno denaro in circolazione significa i mercati regionali vuoti perché io che giro nei mercati lo vedo che molto spesso ci sono più esercenti più venditori che potenziali clienti questa città diventa sempre più povera questa città si svuota sempre di più questa città non mette nelle condizioni le giovani coppie di avere figli perché sono sfiduciati perché per tanti anni hanno sentito tante belle parole ma purtroppo ahimè sono stati sempre traditi noi proponiamo un contratto di amore con questi cittadini ma l'amore l'altra faccia dell'amore purtroppo molto spesso è il tradimento e a Taranto è stato predominante il tradimento guardi questa foto è molto riflessivo in questa foto e quindi mentre pensa in questa foto io guardandola le voglio chiedere stava già pensando quale sarà il suo primo obiettivo che porterà a favore dei cittadini Tarantini lo sta già pensando quale sarà la prima proprio mansione che lei svolgerà a favore dei cittadini se venisse eletto sindaco di Italia se venisse eletto sindaco la prima cosa in assoluto sarà aprire spalancare il palazzo di città ai Tarantini in questi anni è mancato il dialogo è mancato la possibilità di confrontarsi con il governo di città è mancata la possibilità di sentirsi parte di questa città i Tarantini in questi anni sono stati trattati come figliastri da parte dell'amministrazione persone da tenere lontano tanto ci pensiamo a noi perché siamo bravi perché siamo sostenuti dal governo regionale perché arrivano i ministri e ci dicono quello che devono fare e quindi non abbiamo bisogno dei cittadini non abbiamo bisogno del nostro popolo delle nostre persone quindi atto numero uno spalancare le porte della città atto numero due un sindaco che governa e che magari amministra di meno perché abbiamo bisogno di una grande squadra che amministra ma il sindaco non deve amministrare il sindaco deve governare perché deve poter avere il tempo di stare in città di stare in giro di andare nei mercati di parlare con le persone di confrontarsi con loro di capire di percepire la vera sofferenza ma non solo di percepire anche la straordinaria potenzialità di quella città straordinaria bellissima ma se non parli con loro se non sei con loro se non acquisisci tutto quello che c'è da acquisire beh questi risultati non stia parlando mai palazzo spalancato sindaco per la città questi sono i primi due come posso dire i primi due impegni gli impegni principali che mi sento di rappresentare ai miei carissimi concittadini Musillo e ora mi lasci curiosare perché sai io faccio del giornalismo oltre che di inchiesta quello molto curioso perché mi conosce mi segue e mi fa piacere lei nel 2017 è stato lei uno dei fautori a proporre proprio il nome di Melucci come candidato sindaco adesso io le chiedo come se la spiccia ad averlo come concorrente attenzione io non uno dei fattori io sono stato il fautore ma io sono stato il fautore di un progetto politico io sono stato il fautore lì in quel caso con tante altre belle persone del programma elettorale dell'amministrazione comunale qualcuno la chiama amministrazione Melucci ah un'altra cosa io non la chiamerò mai amministrazione Musillo se vengo eletto quella è l'amministrazione comunale è l'amministrazione di tutti non può essere personalizzata nei confronti di una persona è una brutta cosa è una mancanza di rispetto per la città intera quindi quell'amministrazione la dotiamo di un programma bellissimo soprattutto dal punto di vista dei rifiuti che diventano con quelle attenzioni una risorsa invece che un problema noi l'abbiamo fatto diventare un problema ancora più grande soprattutto in una città a misura di bambino che inizia con la cura verso i nostri bambini dal punto di vista culturale dal punto di vista sportivo dal punto di vista aggregativo e che fanno crescere una generazione migliore il nostro investimento vero su quella città non è il denaro il nostro investimento quello vero per quella città sono i bambini non le barche che circolano sotto il ponte girevole spendiamo quasi 4 milioni per promuovere un sale GP che ci ha fatto godere la vista per tre giorni allora io scrivo questo programma bello straordinario vinciamo le elezioni quindi ci proponiamo la città con quel programma ma quel programma subito dopo ma dopo pochissimi giorni viene accartocciato da quell'amministrazione con una giunta che per nessuna ragione rappresentava come posso dire l'elettorato il voto popolare viene accartocciato e viene cestinato quello è il grande tradimento di quell'amministrazione per questo motivo la mia grande convinzione nel costruire una persona e un'amministrazione intorno al programma ma la base del programma se tradisci il programma beh il tradimento l'hai fatto anche tu come persona il più grande tradimento che Taranto poteva ricevere e allora Musillo le emergenze sono tante su Taranto Taranto diciamo è stata una delle capitali per quanto riguarda l'accoglienza durante l'emergenza migranti adesso stiamo vedendo anche lo scenario che riguarda la guerra i tanti ucraini che stanno arrivando in Puglia anche nel Tarantino ecco la sua posizione sulla questione proprio dell'accoglienza ma l'accoglienza è una cosa importante ma tutti gli italiani sono accoglienti gli italiani con le regole giuste con il modello giusto di accoglienza gli italiani sono accoglienti a qualsiasi partito appartengano non c'è un italiano che pensa che un paese come il nostro non debba accogliere il problema in che modo se parliamo come è accaduto negli ultimi anni degli hotspot io li ho sempre da qualsiasi lato politico sono stato li ho sempre definiti dei lager non penso che quello sia il modello giusto dell'accoglienza l'accoglienza deve prevedere controllo l'accoglienza deve prevedere integrazione e l'accoglienza con questi due parametri con questi due fattori a quel punto evita che tanta gente che viene da fuori facilmente diventa manovalanza per la malavita allora noi dobbiamo impegnarci sull'accoglienza ma farlo bene con le regole giuste come accade in mezzo mondo perché l'accoglienza nel mondo anche lì prima scusate non voglio fare esempi del genere ma ogni cosa dai rifiuti alla cultura allo sport all'accoglienza se viene fatto in un modo giusto nel modo vero nel modo serio diventa una risorsa per tutti noi come lo facciamo anche in Puglia penso a Taranto ma penso al Foggiano penso in altre zone del Barese beh cosa è diventata l'accoglienza cosa è diventato lo sfruttamento per questi poveri Cristi che vivono in quel modo io non penso che questa sia accoglienza non penso che sia una vita da poter garantire a certe persone quindi non c'è sinistra o destra c'è una destra che è nella mia coalizione che pretende un'accoglienza giusta un'accoglienza fatta bene un'accoglienza con le regole un'accoglienza secondo la legge italiana poi ce n'è un'altra accoglienza che va bene tutto va bene qualsiasi cosa purché si possa lavorare nei campi purché si possa dignitosamente bene ecco ecco questa è ovviamente la mia posizione poi le dico Taranto insomma non è una città che vive fortemente questo problema insomma non è percepito forte come problema magari c'è lì dove ci sono dei problemi o dei difetti rispetto all'accoglienza bisogna intervenire bisogna fare le cose per bene bisogna essere attenti bisogna che ci sia una città che controlla ogni cosa però attualmente ecco non penso che sia un grande problema quando lei poi parla di controllo su tutte le cose per esempio lei lo sa io ho fatto delle grandi lotte con la mia trasmissione quando ho denunciato durante la pandemia non era possibile immaginare vedere i pazienti covid alloggiati nelle tende quando in realtà ecco si è sponsorizzato adesso il San Cataldo l'ospedale grande pastarella di grandi politici ecco finalmente ci sarà questo ospedale finirà i cittadini tarantini lo avranno o dobbiamo far dormire nelle tende come abbiamo visto durante la pandemia io non voglio dare responsabilità a nessuno però è vero anche che queste immagini noi le abbiamo raccontate ma andate in onda io do invece mi dispiace delle grandi responsabilità perché a Taranto stiamo costruendo un nuovo ospedale un ospedale che al momento ha subito dei ritardi rispetto alla consegna nessuno si scandalizza di qualche mese di ritardo perché tutto può succedere abbiamo aspettato tanti anni non è questo il momento di fare politica ma ancora non vedo i soldi necessari per attrezzare quell'ospedale per attrezzarlo sì sì ma probabilmente sarà pronto tra poco non sappiamo ancora come attrezzarlo macchinari arredi pare servano 120 milioni pare che ancora non si sia capito quando arrivano e in che modo arrivano comunque saremo molto attenti ma lì rispetto all'amore che poi diventa un tradimento c'è un enorme tradimento che ci è arrivato il 27 marzo da parte della regione Puglia e le responsabilità il partito democratico i consiglieri regionali del partito democratico il governatore il nuovo assessore alla sanità pare non se le vogliano prendere perché in un piano triennale di assunzioni io vedo che a Bari vengono assunti 1080 medici il problema del pronto soccorso a Taranto per esempio dove si aspetta anche 30 ore per essere visitati il che è impensabile una cosa del genere il problema vero è che non ci sono i medici perché quei povedini quei pochi che ci sono davvero quando mi è capitato anche a me di andare al pronto soccorso non li ho mai visti fermarsi un attimo lavoratori instancabili perché sentono la responsabilità di quello che stanno facendo allora scopro che a Bari vengono assunti 1080 medici non so se sono sufficienti non conosco Bari non conosco la situazione della sanità barese ma ci sono 1080 medici assunti circa 600 nel foggiano altri e tanti a Lecce 370 380 non ricordo bene i numeri alla Batte e altri e tanti a Brindisi perché a Taranto non arrivano a Taranto non arrivano 174 io non posso sopportare da sindaco e nelle stesse ore che veniva comunicato veniva varato questo piano di assunzioni dove vede anche Taranto mortificata con gli infermieri sugli OS mille OS da assumere nel piano triennale sa quanti ne assumono a Taranto? non oso immaginare uno uno allora questo è uno scherzo abbiamo posticipato il carnevale stiamo facendo uno scherzo di carnevale o è tutto vero? ahimè è tutto vero allora io dico chi ci governa è inutile inaugurare comunicare l'ex sindaco di Taranto in quanto consigliere ufficiale di Michele Emiliano è stato a Bari qualche giorno fa insieme al presidente ci hanno annunciato che ci daranno di nuovo il Medimex quest'anno allora a parte il fatto che io a Taranto pretendo l'impegno di Puglia promozione come nelle altre città pretendo l'impegno di Apulia anche perché è gravissimo definire città di serie A e città di serie B quindi quella è una cosa dovuta ce la deve la regione questo impegno ce lo deve e noi ovviamente siamo disponibili siamo contenti che gli eventi arrivino a Taranto ma non si può applaudire al Medimex quando 24 ore prima ci presenti un piano triennale di assunzioni come quello i medici mi devi dare mi devi dare i dottori non i chitarristi poi arriveranno i chitarristi ma a Taranto per le ragioni che dicevamo prima mi devi dare i medici questo questo fa uno che davvero ci tiene a Taranto che davvero penso che questa città dove è chiaro è evidente ci sono dei report ci si ammala il 30% di più rispetto agli altre province mi devi o non mi devi dare concedere il 30% di offerta sanitaria maggiore delle altre province sì o no perché se no significa che stiamo scherzando significa che ancora una volta ci presenteremo agli addettori dicendo alcune cose e poi come al solito le tradiremo prima o poi a Taranto non andrà a votare più nessuno questa è una cosa certa glielo dico sono quasi sicuro perché sto vivendo la città perché sto parlando con loro sto accogliendo le loro delusioni prima o poi la pazienza la perderanno beh delusioni un po' comuni da tutte le parti si è spesi 25 milioni di euro per l'ospedale in fiera mi domando poi nello smantellare questo ospedale come mai il San Cataldo ancora è privo di queste risorse quindi questo è un tema che però vorrò affrontare augurandomi che lei diventi sindaco di Taranto e io la seguirò attentamente e seguirò il suo percorso perché mi piacerà ritrovarla ancora io verrò sempre con molto piacere qui a confrontarmi e se ci sarà possibile di ospitarvi anche a Taranto parlarne anche a Taranto di queste cose una cosa non si sentiranno mai dire i tarantini da me troppo spesso accade accadeva l'ex sindaco ma accade anche in altre città in tutta Italia la cosa più brutta che un sindaco può dire non è di mia competenza un sindaco non lo deve dire mai perché perché se la sanità il sindaco è comunque il responsabile della salute dei cittadini questo è questo è un impegno è un dovere costituzionale del sindaco ma della sanità anche se non di tua competenza tu non lo puoi ignorare il problema tu lo devi affrontare quando le aziende nel tuo territorio chiudono tu non puoi dire non dipende dal sindaco lo devi affrontare quando le scuole non sono di competenza comunale ma ci sono dei problemi tu non puoi dire in una scuola dove ci sono i tuoi concittadini non è di competenza del sindaco le competenze del sindaco sono tutte ogni cosa è competenza del sindaco alcune può agire direttamente altre deve accompagnare i suoi concittadini a risolvere il problema questo è il dovere di un sindaco Musì lo sai perché lei mi piace perché lei ci mette la faccia grazie e quando una persona ci mette la faccia e parla in questo modo vuol dire che davvero si vuole impegnare nel meglio della propria città quindi io mi auguro che i cittadini di Taranto possano ascoltare le sue parole e le sue dichiarazioni grazie mille che Taranto possa rinascere dopo un periodo dove oggettivamente tante cose si sono dette e poi non si sono fatte grazie davvero per aver scelto in esclusiva la mia trasmissione e la nostra azienda grazie ancora a Walter Musillo che è il candidato sindaco di Taranto grazie ancora grazie 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 a tutti quelli che ci hanno ascoltato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti